cari amiche e cari amici del salvagente cari amiche di cari amici di zero truffe della vostra trasmissione oggi ci occupiamo di temi molto interessanti con il nostro vice direttore enrico cinotti affronteremo quello che davvero ci ha lasciato quello che ci può lasciare di positivo il coronavirus e questa quarantena molto lunga questo dramma che ha attraversato l'italia che però ci ha portato anche alcune novità cercheremo di capire quali di queste novità possiamo di quali possiamo far tesoro e quali invece saranno probabilmente dimenticate subito con il professore alberto ritieni sui miti alimentari invece ci occupiamo della dieta di fatta di proteine serve davvero per rassodare la nostra massa muscolare lo vedremo tra poco con i miti alimentari ma partiamo subito da uno dei temi che trovate sul giornale sul salvagente ne dico la proprio in questi giorni che il lascito magari positivo speriamo positivo tra le poche cose davvero positive di questo coronavirus migliaia di morti quasi due mesi di lockdown l'emergenza coronavirus ha sicuramente stravolto le nostre vite ci siamo chiesti nel numero in edicola però se ha portato con sé anche degli aspetti passateci il termine positivi cioè se siamo riusciti o se riusciremo a comprendere anche una lezione positiva da questo da questo periodo così travagliato noi abbiamo messo sul tappeto una serie di dati senza dubbio questi lunghi mesi di distanziamento sociale hanno fatto sì che c'è stata una forte riduzione dell'inquinamento nelle nostre città meno 35 per cento di co2 di anidride carbonica registrata nei mesi di marzo aprile 2020 rispetto al 2019 un obiettivo che secondo gli accordi parigi deve essere raggiunta addirittura in dieci anni in questa emergenza sicuramente siamo entrati molto impreparati soprattutto da un punto di vista di offerta sanitaria ci siamo trovati scoperti soprattutto nei posti della via intensiva e questo è stato anche il risultato di dieci anni di forti tagli alla sanità pubblica in dieci anni abbiamo come dire risparmiato un eufemismo ben 37 miliardi di euro in soli due mesi invece di fronte a un'emergenza davvero forte e abbiamo investito molti molti danari circa 5 miliardi di euro solo per la sanità un dato siamo entrati ai primi di marzo con nell'emergenza coronavirus con appena 4.900 posti letto di terapia intensiva ne siamo usciti con 6.100 posti e ancora la scuola luci ed ombre la scuola a distanza non ha funzionato in tante occasioni noi abbiamo chiesto a un esperto come benedetto vertecchi professore merito di pedagogia all'università di roma e di darci la sua interpretazione e qual è non si fa scuola a distanza distribuendo qualche tablet pc in più serve soprattutto per la ripresa di settembre pensare che la nuova modalità di insegnamento presuppone anche nuovi contenuti programmi specifici per i nostri bambini e i nostri ragazzi e infine il lavoro con il professor domenico de masi abbiamo ragionato sul fatto che in queste lunghe settimane di lockdown ben otto milioni di italiani hanno lavorato a distanza da casa una cosa mai avvenuta prima per tanti motivi ecco professore ci lascia con una come dire insomma con un con un paradosso speriamo che non ci voglia un'altra pandemia per scoprire che c'è la necessità di un reddito universale per tutti in caso di crisi sia sanitaria sia economica questo ragionamento cioè la lezione è servita lo trovate con i nostri interlocutori su un nuovo numero in eticola del mensile salvagente dovremo insomma continuare a riflettere dovremo continuare a sperimentare anche soprattutto dal punto di vista della scuola una forma di insegnamento differente questo è uno degli aspetti su cui ci hanno invitato a riflettere i nostri esperti nel giornale che trovate in eticola adesso ci spostiamo ci spostiamo sui miti alimentari il professore alberto ritieni ci risponde una domanda se è vero che consumando per esempio delle uova in più quindi molte proteine davvero rassodiamo i nostri muscoli e ci rimettiamo in forma mangiare qualche uovo in più mi permette di avere maggiore massa muscolare vero o falso falso diciamo le uova hanno per molti anni avuto una responsabilità enorme sul loro consumo per molte persone l'uovo sono un sinonimo di dieta pesante di cecato affaticato di grandi quantità di colesterolo presente all'interno e quindi sono stati sempre considerato quasi un tabù un consumo eccessivo di uovo l'uovo è chiaramente un prodotto privilegiato è praticamente uno degli alimenti più completi contiene un po di tutto fra i grassi proteine dell'albume contiene tutto un gruppo di vitamine fondamentali per la nostra vita anche perché contiene vitamina per esempio a b12 che noi non siamo capaci di produrre in maniera autonoma né viene contenuta nei vegetali per cui o si ricorre agli integratori o si deve ricorrere a delle alghe per esempio molto di modo come la spirulina oppure si può ricorrere anche all'uovo se possiamo utilizzare le uova nel nostro piano alimentare anche il colesterolo presente per molti anni è stato considerato il vero problema delle uova in effetti si è osservato che la quantità è sicuramente una quantità che spicca molto ma il colesterolo serve nel nostro organismo rappresenta praticamente una delle molecole importanti per la produzione di alcuni ormoni per esempio tutti gli ormoni steroidei rappresenta anche una molecola fondamentale per l'elasticità delle nostre membrane può sembrare ridicolo ma troppo colesterolo fa male perché occlude i vasi diciamo sanguigni ma poco colesterolo renderebbe gli stessi vasi comunque tutte le cellule in generale molto rigide che non sarebbe proprio la cosa ideale quindi ci vuole un giusto equilibrio ed è questo il punto esatto mangiare le uova in maniera equilibrata ora è diverso il discorso se noi supponiamo di poter aumentare la nostra massa muscolare utilizzando chiaramente le uova come fonte di proteine come spesso accade attraverso alcuni tipi di fake news che si osservano per cui c'è un grande consumo ad esempio del bianco d'uovo che è ricco chiaramente di sostanze proteiche che vengono ingerite questo non è esattamente la strada migliore noi non ingeriamo proteine le trasformiamo pari pari non è un palazzo che trasforma i mattoni in quello che è direttamente un muro abbiamo bisogno di un metabolismo le proteine devono essere in qualche maniera rese necessarie quindi nostro organismo funziona in una maniera molto semplice se ne abbiamo bisogno di maggiore massa muscolare significa anche far capire all'organismo che deve produrre più proteine non semplicemente introducendo proteine che derivano ad esempio dall'albume o comunque dalle uova come facciamo a far capire questo al nostro organismo perché il nostro organismo risponde agli stimoli esterni lo stimolo esterno che è quello principale che dice al nostro corpo guarda devi fare maggiore massa muscolare è l'esercizio fisico nel momento in cui ne facciamo più esercizio fisico aumentiamo il nostro consumo il nostro dispendio energetico il nostro organismo comprende che c'è bisogno di fare massa muscolare quindi tutto quello che può lo trasferisce verso la biosintesi delle proteine che in parte vengono destinate alle cosiddette proteine strutturali ai muscoli questo spiega perché un atleta diventa muscoloso se fa esercizi non diventa muscoloso semplicemente perché mangia uova e nel momento in cui smette di fare esercizio la sua massa muscolare si riduce mentre se una persona continua a mangiare chiaramente uova continua ad essere chiaramente sottoposta ad uno stress ad un vista calorico per cui non è proprio bene una domanda che ci si può porre se questa quantità di uova da utilizzare può essere libera in effetti l'uovo va visto nel contesto complessivo della dieta perché è chiaro che se una dieta già ricca di colesterolo il numero delle uova che settimanalmente possiamo utilizzare sarà un po più basso diciamo che in una dieta equilibrata in funzione anche delle altre caratteristiche del nostro organismo l'equilibrio lipidico dalle due e le quattro uova alla settimana possono essere una valutazione oggettivamente accettabile con questo anche per oggi è tutto noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al lunedì torniamo ovviamente con zero truffe la trasmissione del salvagente a difesa dei vostri diritti voi continuate a scriverci a raccontarci quello che non vi convince quelli le cose che in qualche modo meritano un'inchiesta diventeranno le storie di zero truffe fatelo a redazione chiocciola il salvagente punto it buon fine settimana a tutti bricofer la più grande catena italiana del fai da te grazie a tutti grazie a tutti